Sono un genitore che purtroppo ha vissuto l'esperienza che nessun genitore vorrebbe vivere, quella di sopravvivere a un figlio. 17 anni e mezzo fa ho perso una figlia, si chiamava Elisa. La fortuna mia e della mia famiglia è stata che Elisa in vita aveva espresso la volontà, qualora le fosse capitato qualcosa, di donare i suoi organi. Io col tempo mi sono messo nei panni di un genitore che ha un figlio che necessita di un organo per sopravvivere. Siccome, come tutti ben sapete, gli organi non si acquistano al supermercato, sicché dalla decisione di ogni singolo potrebbe dipendere la vita anche dei nostri figli. Vi invito a riflettere per questo. E adesso fai la tua scelta. Parla nei famiglia, non lasciare ad altri la responsabilità di decidere per te.